Matteo Barzaghi, primi semifinalisti della Press League 2013, in una partita che comunque sia è stata combattutissima, anche se a un certo punto sembra finita. Per una volta lo si può dire, sono tutte finali, lo possiamo dire? Possiamo dirlo, non è una frase fatta. Abbiamo marcato Diego Armando Tramontana con lo stile di Honda di Street Fighter, quindi le 100 mani, no? È stata dura però ci l'abbiamo fatta grazie al guizzo di Caruso, che per noi è come Ronaldo per l'Inter 97-98, quindi tutti dietro, palla Caruso. Un ringraziamento particolare ha Donato perché gli sale il crimine, questa è la nostra frase, il nostro motto di quest'anno è così, sale il crimine. Ovviamente sportivamente parlando. Ci manca. No, invece, siamo in finale, quindi non so se avete già organizzato qualcosa, se eravate pronti a questa partita. No, per noi è un risultato, noi siamo una neopromossa, quindi per noi è un risultato già fantastico. Faremo una grigliata con i peruviani, amici nostri, a Trenno. E poi... Bisogna vedere anche il tempo, perché di questo periodo... Anche con la pioggia, perché l'avevamo promesso ai nostri amici, Ui Vargas del Genoa. E quindi niente, faremo sta grigliata a Trenno per festeggiare, poi la finale vada come vada. Io aspetto i miei amici di Sky o Mediaset, comunque va bene tutto. Faccio complimenti comunque per la partita, per la finale. Grazie. Ciao a te.